Non andare a dormire senza mangiare, scrivici in privato senza vergognarti, accetta quel poco o tanto che noi possiamo donarti. A scriverlo in questi giorni di emergenza coronavirus sul social street di un quartiere della periferia milanese sono stati i due giovani titolari di una panetteria. Abbiamo pubblicato questo posto per informare la gente che ha bisogno, soprattutto in questo periodo che molti sono rimasti senza lavoro, molte aziende chiuse in cassa integrazione, molti contratti non sono stati rinnovati, quindi capiamo un pochettino la situazione. Sono siciliani d'origine, milanesi da poco più di un anno. Sappiamo oggi che Cosenive non avere il pane oppure avere un reale bisogno di cibo e quindi abbiamo deciso, per quanto era nelle nostre possibilità, di aiutare. Negli occhi hanno la fatica che molti abitanti del quartiere, soprattutto anziani, stanno facendo dopo più di un mese di isolamento e con la maggior parte delle aziende chiuse. Tutte le sere doniamo tutto quello che resta a una situazione locale. L'abbiamo sempre fatto. La beneficenza non si pubblicizza, l'abbiamo sempre fatto da sempre. È un dovere morale di chi fa impresa oggi aiutare.